considerate una cosa che in realtà Alba di Cthulhu ad alcuni viene visto come un gioco investigativo in realtà definirlo un gioco investigativo è un po' una fregatura nel senso che non è realmente cioè non è solamente un investigativo perché l'investigazione fa parte del gioco ma il gioco spesso diventa un gioco di sopravvivenza quindi un survival sì perché ok devi fare l'investigazione per guadagnare soldi non far chiudere la ditta eccetera però il vero problema non è capire gli indizi non è solo capire gli indizi è anche fare quel tragitto che ti porta da un lato della città all'altro dove può succedere di tutto cioè puoi essere sacrificato a un antico puoi incappare poi puoi fare un incidente in auto poi ci possono succedere davvero tante tante cose la città è pericolosissima da girare i personaggi che trovi sono pericolosissimi e quindi è difficile secondo me da definire in un settore classico del gioco di ruolo questo qui poi ce la considererei anche il fatto che secondo me uno dei punti di forza di alba di puro rispetto a chi che ha fatto vincere poi il premio del gioco dell'anno l'anno scorso è il fatto che ha tutta una meccanica al suo interno è quella della costruzione dell'agenzia quindi tu hai i tuoi personaggi ma la sopravvivenza dei singoli personaggi non è molto importante quanto la sopravvivenza dell'agenzia insieme quindi hai tutta una scheda nella quale tu scrivi cosa l'agenzia ha comprato quali sono gli oggetti che ha il personaggio è un po in secondo piano rispetto all'agenzia se muore il personaggio l'agenzia può sopravvivere ma se muore l'agenzia tutti i personaggi che ne fanno parte finiscono la loro vita in maniera misera sotto un ponte quindi terminano fermiamo le loro avventure quindi un gioco di ruolo ma è già questa parte se vuoi da board game in realtà è la parte secondo me che lo rende diverso da altri tipi di gioia di investigazione interessante tra l'altro mi ricorda un gioco vecchio che voleva ricreare la gli acchiappofantasmi bravo bravo infatti guarda l'unica cosa che si avvicina ad alba di cthulhu è ghostbusters a quindi l'ambientazione perché in ghostbusters il punto focale è prendere i fantasmi mi è tenere sulla ditta tra l'altro mi sembra anche una metafora della casa editrice di di giochi di ruolo l'importante è mandare avanti la baracca esatto esatto voi quando avete fatto quando avete creato sine requie avete innovato permettetemi di usare parole grosse il design dei giochi di ruolo inserendo i tarocchi al posto del dado da 20 per esempio ok meccanica di risoluzione e io mi ricordo all'epoca quando uscire stai meravigliato per questo cambiamento ora mi avete detto per esempio con l'alba di tulu che avete inserito una parte simil board game all'interno di un gioco di ruolo io vi chiedo non avete mai pensato per esempio di realizzare un gioco di ruolo come quelli più strani che si vedono in giro magari senza gm o stravolgendo ancora di più la struttura da gioco di ruolo tradizionale allora in realtà se oggi facessimo una cosa come fare un gioco senza gm non faremo niente di nuovo sì però voi non l'avete mai fatto vi piacerebbe farlo o lo ritenete già fatto e quindi guardate ad altro noi pensiamo sempre una cosa prima di tutto pensiamo alla parte di ambientazione del gioco cosa deve fare qual è l'ambientazione creiamo lo scopo è sempre fare cosa deve fare il personaggio in pratica rendano più fedelmente possibile l'idea di vivere in quel mondo quindi le regole sono sempre in secondo piano nel senso che devono essere create appositamente per quello quindi se il non avere il master presente o una situazione dove tutti fanno il master è una cosa che permette di ricreare meglio la sensazione di vivere in quel mondo alla grande non ci sono problemi cioè noi non ci mettiamo mai dei limiti dei limiti cioè fai conto che alba di ctulo è stato fermo tre anni tre anni e mezzo dopo che avevamo scritto i primi racconti perché aveva un sistema a dadi che però non 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 ricalcava il gioco non non restituiva al gioco quello che doveva restituire ah non era coerente con l'atmosfera il mood che voleva succedere con però il mondo c'era già cioè che il mondo fosse più o meno quello abbiamo già deciso quello abbiamo già già giocato qualche volta per fare delle prove per vedere come come era però appunto si poi la meccanica è venuta piano piano dopo devo dire una cosa però è difficile secondo me poi tutto tutto può essere che noi che noi si crei mai un gioco senza master o comunque che si allontani molto dal concetto di gioco con un master dei giocatori perché noi siamo molto affezionati al concetto di giocatori che vivono i loro personaggi ok quindi che ignorano e scoprono il mondo quindi ritenete necessario il senso che ci sia tanto più vicinanza possibile tra il giocatore e il personaggio perché il giocatore provi delle emozioni tramite il suo personaggio e questo è il motivo per il quale nei nostri giochi si tende ad esserci meno possibile l'utilizzo di tecniche che sfruttino il metagame cioè non come un errore ma come ci sono e sono divertenti in gioco cioè ci sono alcune sono divertenti in gioco come insinerebbe c'è il tutore tu hai una carta da parte e poi usare da un momento all'altro no è divertente in gioco è un jolly è giocattoloso e ganso però è anche un momento in cui tu esci dalla visione di quello che stai immaginando torni sul tavolo analizzi una carta cioè esci dal mondo fantastico e rientri sul tavolo e rientri sulle meccaniche e poi dove ci rientri però sei uscito da quel mondo non sei rimasto su quel mondo lì capito quindi secondo noi sono tecniche che ovviamente in piccola parte utilizziamo però secondo noi devono darti tanto perché ti solgono dalla ti solgono dal dal mondo immaginario la visione di game design in generale c'è sempre quello a cui puntiamo noi per esempio ci sono giochi che utilizzano un sacco di queste tecniche che magari sono divertenti tipo il gioco horror che utilizza il il genga per dare il senso di la red red noi non avremmo mai scritto perché utilizza un sistema esterno di sottogioco che fa benissimo la tensione per il gioco tra virgolette ma ti toglie da quella che è la visione noi abbiamo di essere costantemente del personaggio immaginare sempre con gli occhi del personaggio quindi ci sono secondo me delle tecniche di game design che sono particolari per un tipo di autore specifico cioè per quello che l'autore vuole questo io dico sempre tutte queste tecniche non conosciamo di game design e cose che puoi fare non sono per tutti gli autori dipende che tipo di autore sei e dipende che cosa vuoi ottenere da tanto gioco per esempio noi una cosa che siamo riusciti a ottenere di cui siamo abbastanza orgogliosi perché una cosa su cui abbiamo lavorato mentalmente per tanti tanti anni è il regolamento di paesi dei balocchi che è un regolamento che sfrutta i tarocchi che danno soltanto un'immagine descrittiva di ciò che succede e non ha sulla scheda nessun numero non hai mai un confronto numerico tranne hai una scala diciamo di peggioramento del personaggio del però è una scala poteva essere numerica poteva essere grafica ma non hai mai non lavori mai sui numeri il personaggio non è descritto da nessun numero e tu non guardi nessun numero quando tiri hai soltanto una descrizione di quello che avviene in base a quanto sei bravo estrai un numero maggiore meno di carte hai delle leggi delle descrizioni diverse dei tarocchi per cui hai delle delle sfumature diverse di quello che succede però ci piace tanto perché un gioco dove ti metti a sedere tu hai scritto il nome del tuo personaggio e quattro cose che lo caratterizzano tipo il personaggio è spadino ha una spada un'armatura è un è un cesto di frutta e poi che in gioco se il cesto di frutta ti può aiutare in una situazione lo usi hai vantaggio nel lancio dei tarocchi nella lettura dei tarocchi da parte del cartomante però non devi mai fare i conti è affascinante è affascinante questo approccio che toglie la semplice caratterizzazione numerica per inserire una caratterizzazione di tipo autoriale sulla storia è un tentativo di utilizzare solo la parte del cervello che non usa la matematica ok bene ai tre ai tre a matematica puoi giocarci amico grazie a tutti a